Io sono sempre stata cattolica di famiglia, ho ricevuto la mia educazione cattolica in famiglia. Il primo momento forte è stato intorno ai 17-18 anni in un seminario di vita nuova nello Spirito Santo, quindi con rinnovamento carismatico, però poi c'è stato il grande cambiamento proprio con la comunità Shalom che ho conosciuto nel 2000 ed era appunto un anno del giubilare, era il giubileo del 2000, quindi per me è stato un po' uno spartiacque quello, un anno molto importante e ho cominciato poi a seguire il gruppo di preghiera e mi sentivo molto attratta da questo carisma, da questa comunità e ho cominciato a fare i vari passaggi in comunità, quindi nel postulantato e poi nel discepolato e la cosa che mi colpisce è che le mie prime promesse come comunità d'alleanza sono state proprio l'anno scorso, quindi nel 2016, un altro anno a giubilare, quindi un giubileo straordinario della misericordia, quindi vedo proprio il filo conduttore nella mia vita, la misericordia di Dio veramente, che mi ha chiamato e per misericordia oggi sono qui e anche alla luce di questa chiamata, di questo carisma capisco anche un passo che il Signore mi ha dato fin da quando ero molto giovane, che mi ha sempre accompagnato e usciva anche nei momenti molto importanti della mia vita e voglio leggerlo perché è molto bello, è un passo di Geremia, del capitolo 1 di Geremia e dice così Io ti ordinerò e questo oggi ha per me tutto un significato proprio di risposta anche a quella che è stata la vocazione di Dio per la mia vita e quindi oggi sono molto felice di vivere in comunità, nella comunità shalom e veramente ringrazio Dio per la sua misericordia, per la sua fedeltà. Il Signore è un Signore vivo della nostra vita, non è un Dio morto lontano ma è un Dio vivo, quando si fa esperienza di questo cambia tutto, cambia, si trova il senso vero, il senso pieno della vita, della gioia, quindi sono molto felice di questo.